ciao ragazzi e bentornati su hard rock crypto qui è muro per voi oggi voglio mostrarvi tutte le novità più interessanti riguardanti polka dot e il suo ecosistema e andremo a vedere principalmente quello che è emerso a luglio al decoded 2024 l'evento annuale di punta per l'ecosistema polka dot prima di cominciare però vi chiedo un sostegno per il canale se vi piacciono questi video distruggete il tasto like qua sotto iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati e come sempre tutto quello che dirò in questo video non rappresenta assolutamente un consiglio finanziario e mi raccomando fate sempre le vostre ricerche prima di investire bene ora possiamo partire l'11 il 12 luglio bruxelles è stata la cornice di polka dot decoded 2024 un evento fondamentale per l'ecosistema polka dot che ha riunito una vasta gamma di esperti del settore sviluppatori investitori e appassionati di blockchain l'evento ha offerto uno sguardo approfondito sulle innovazioni tecnologiche più recenti sulle strategie di governance decentralizzata sulle applicazioni del mondo reale e sulle sfide legate all'esperienza utente all'interno dell'ecosistema quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere tutte queste novità e cominciamo con le innovazioni tecnologiche e uno degli annunci più attesi e significativi del decoded è stato quello relativo ad agile core time una nuova soluzione ideata per migliorare la scalabilità e la gestione delle risorse della rete polka dot agile core time introduce un modello in cui gli utenti possono acquistare core time in blocchi mensili offrendo alle parachain un modo più prevedibile e flessibile di pianificare le risorse necessarie questo sistema consente di proteggersi dalle fluttuazioni di prezzi garantendo stabilità economica per i progetti che richiedono risorse elevate inoltre la possibilità di rivendere porzioni di core time crea un mercato secondario aumentando così l'efficienza e ottimizzando l'uso delle risorse della rete poi un'altra novità molto importante è stata quella di jam presentata dal fondatore di polka dot gavin wood jam che significa join accumulate machine è una tecnologia innovativa che mira a superare le attuali limitazioni in termini di scalabilità e interoperabilità delle block chain con jam si propone di migliorare la comunicazione e l'interoperabilità tra smart contract su diverse chain utilizzando la polka dot virtual machine per raggiungere livelli di performance senza precedenti questa tecnologia rappresenta un passo avanti significativo per rendere le block chain più efficienti e connesse tra loro aprendo nuove possibilità per gli sviluppatori e per l'intero ecosistema poi cambiando argomento un altro tema centrale dell'evento è stato quello della governance decentralizzata un aspetto cruciale per il successo a lungo termine di polka dot e ci sono state un paio di conferenze molto interessanti in una sessione dal nome futuro della governance e decentralizzazione in polka dot sono stati esplorati nuovi modelli e strumenti per il processo decisionale on chain l'obiettivo è creare un sistema più inclusivo e partecipativo che permetta tutte le voci della comunità di essere ascoltate e di contribuire attivamente alla crescita e all'evoluzione della rete questa discussione ha messo in luce l'importanza di una governance robusta e decentralizzata per mantenere la fiducia e l'integrità dell'ecosistema poi nell'altra conferenza dal nome state of the union strategia per l'ecosistema polka dot è stata fornita un'analisi approfondita dello stato attuale dell'ecosistema e delle sfide future sono state delineate strategie specifiche per affrontare le difficoltà legate alla decentralizzazione e per promuovere l'adozione della rete da parte di nuovi utenti e sviluppatori in questa sessione è stato evidenziata la necessità di una cooperazione coordinata tra i vari attori dell'ecosistema per garantire uno sviluppo sostenibile e inclusivo con un focus particolare sull'espansione della base di utenti e sulla creazione di un ambiente accogliente per i nuovi partecipanti che sicuramente è fondamentale poi oltre alla governance decentralizzata andando avanti si è parlato anche di applicazioni nel mondo reale e un esempio concreto delle potenzialità della tecnologia polka dot è stato presentato durante la discussione guidata da george busis fondatore di raise che potete vedere qua in foto sulla destra che ha esplorato l'unione tra blockchain e il settore delle gift card un settore dal valore di mille miliardi di dollari all'anno tra brand e consumatori che soffre purtroppo di problemi come frodi e mancanza di trasparenza e la tecnologia di polka dot può risolvere questi problemi portando maggiore sicurezza tracciabilità e trasparenza e pochi giorni dopo lo svolgimento del decoded è stata annunciata un importante partnership tra raise e parity technologies per fornire l'infrastruttura di pagamento per la prossima applicazione per dispositivi mobili di polka dot che dovrebbe in un primo momento uscire a settembre per un numero selezionato di utenti per poi diventare disponibile a tutti successivamente questa collaborazione già preannunciata durante il decoded permetterà agli utenti di fare acquisti inoltre un milione di negozi e siti web negli stati uniti utilizzando il token nativo dot con la possibilità addirittura di guadagnare fino al 20 per cento di cashback in dot su tutte le transazioni quindi una notizia molto ma molto interessante e questa partnership tra raise e parity punta anche a espandere queste funzionalità a livello internazionale entro la fine dell'anno portando i pagamenti in cripto in oltre 33 paesi e 5000 marchi inoltre raise prevede di rendere disponibile la sua api di pagamenti anche per tutti i wallet self custodial di polka dot e sta pianificando ulteriori integrazioni blockchain per ampliare le capacità della piattaforma raise che è il più grande marketplace di gift card negli stati uniti offrirà una piattaforma integrata che semplifica l'uso delle cripto nel commercio tradizionale collegando il mondo cripto con i retail e poi sempre a proposito di carte il ceo di nova sama technologies e nova wallet anton korov ha annunciato un'iniziativa rivoluzionaria che introdurrà le carte di debito nova e mercurio nell'ecosistema polka dot a settembre queste carte permetteranno agli utenti di convertire e spendere i loro token ovunque sia accettata mastercard korov ha anche aggiunto che l'obiettivo è rimuovere la barriera mentale che impedisce agli utenti di comprendere l'effettiva utilità dei loro token offrendo non solo una soluzione per convertire i token ma anche creando una nuova utilità pratica poi un altro argomento importante di cui si è parlato sempre al decoded è la collaborazione tra polka dot e mythical games infatti mythical sta sfruttando la tecnologia di polka dot per creare esperienze di gioco on chain che siano più coinvolgenti e sicure questa partnership dimostra il potenziale delle blockchain per migliorare l'interazione tra giocatori e sviluppatori offrendo nuove opportunità per la monetizzazione e la partecipazione della comunità vi avevo già parlato di questa collaborazione in un video di qualche tempo fa riguardo al gaming su polka dot e qualora non l'abbiate già visto ve lo consiglio per approfondire l'argomento e in questo momento sta comparendo il link qua sopra poi andando avanti un altro tema chiave dell'evento è stato quello dell'esperienza utente attualmente la user experience nell'ecosistema polka dot può risultare frammentata e disomogenea specialmente per chi non è esperto e durante il panel di cui state vedendo la scheda in questo momento esperti del settore hanno discusso la necessità di migliorare l'esperienza utente tra le diverse paracene e applicazioni l'obiettivo è quello di creare un'esperienza più intuitiva e fluida per gli utenti riducendo la complessità e facilitando l'adozione della rete e questo approccio è essenziale per migliorare il coinvolgimento degli utenti e rendere polka dot accessibile anche ai nuovi arrivati nel mondo blockchain e riguardo a questo sono assolutamente d'accordo i nuovi arrivati non devono trovare un ambiente troppo complesso ma devono trovare applicazioni facili da usare e comprensibili miglioramenti che sono fondamentali per attirare un pubblico più ampio e garantire che polka dot possa competere efficacemente con altre piattaforme block chain quindi possiamo dire che il decode del 2024 ha offerto una visione molto chiara e completa della direzione che vuole intraprendere polka dot e tutto il suo ecosistema che è una cosa molto importante bene queste erano a mio parere le novità più interessanti e importanti che sono emerse al decode del 2024 ma prima di salutarci voglio parlarvi di altre due novità molto interessanti e la prima è il lancio della nuova app per ledger di polka dot che è uscita il primo luglio su ledger live e che offre una gestione sicura e senza interruzioni delle transazioni per polka dot kusama e altre parachain un'app sviluppata e finanziata dalla comunità di polka dot e che permette agli utenti di interagire con l'intero ecosistema polka dot attraverso un'unica applicazione migliorando la sicurezza e l'interoperabilità inoltre l'app integra la firma offline che è un metodo per proteggere le transazioni firmandole offline e introduce anche un sistema avanzato per gestire i metadata quindi direi molto bene l'uscita di questa app e poi l'altra notizia a mio parere più importante dell'ultimo periodo è questa e cioè il lancio a fine luglio della parachain ufficiale di mythical games di cui vi parlavo prima quindi una notizia importante per quanto riguarda il gaming infatti con questa migrazione della mythical chain nell'ecosistema polka dot porta con sé oltre 750.000 wallet attivi e una base di utenti di oltre 5 milioni e questa mossa trasforma polka dot in uno dei più grandi ecosistemi blockchain per il gaming una migrazione che ha generato un'impennata nelle transazioni raggiungendo addirittura 3.3 milioni di transazioni in un solo giorno rispetto alle 500.000 del giorno prima quando non c'era ancora stata la migrazione anche se va detto che principalmente è dovuto al trasferimento di nft dalla mythos chain ma anche se le transazioni sono poi calate la mythos chain sta continuando a contribuire in maniera molto significativa e sarà molto interessante vedere in futuro cosa porterà questa collaborazione bene ragazzi con le novità di polka dot e il suo ecosistema è tutto per oggi come sempre se vi è piaciuto questo video disintegrate il bottone del like qua sotto iscrivetevi al canale e accendete la campanellina per rimanere sempre aggiornati veniteci a trovare sui nostri social e alla prossima sempre qua su hard rock crypto grazie a tutti